tre anni fa nel 2019 l'agropoli era in vantaggio per 4 a 0 e perse 5 a 4 sul campo del castel san giorgio le cose sono andate diversamente questa volta rispetto a quel giorno i delfini venivano dal cambio di allenatore ma questo non deve suonare come scusante per i tre gol incassati troppi contro la squadra che spende un terzo dell'agropoli dell'agropoli si può parlare bene solo nella prima mezz'ora durante la quale la squadra ha dominato il lungo ed il largo sbagliando tre nitide palle gol la prima in special modo da parte di befi poi de cristoforo si abbassa sulla linea della difesa e il castel san giorgio prende spazio in campo e addirittura segna immeritatamente durante il minuto di recupero con mister centomila follower su instagram il nocerino cristian liguri conosciuto da tutti quanti davvero un bel calciatore cristian nel secondo tempo all'inizio l'agropoli si butta in avanti e trova il pareggio con margiotta al quinto gol consecutivo il gol dell'agropoli frena le ambizioni dei delfini e i locali passano ancora e ancora con liguri il divo delle ragazzine segna da distanza ravvicinata un minuto più tardi però l'agropoli ha già pareggiato nuovamente natiello lavora un ottimo pallone e lo dà al centro per befi l'attaccante deve solo spingerlo in rete al settantunesimo minuto vitelli entra in aria palla al piede e viene atterrato dal portiere tesoniero il rigore lo batte margiotta e porta in vantaggio i delfini in 20 minuti finali succede ancora di tutto sugli sviluppi di un calcio piazzato vaccaro segna un gol dal limite dell'aria e fa 3 a 3 sembra finita la partita e invece calcio d'angolo il colpo di testa è di della guardia è il 4 a 3 questo forse è il gol più importante del campionato come vedremo successivamente c'è lo spazio per il meritato gol di vitelli all'ultimo minuto 5 a 3 per sanchez c'è molto da lavorare è vero la squadra ha vinto si sono esaltate le individualità come chiede il presidente ma anche la tifoseria ma latita il gioco solo confusione e tanta approssimazione il solo de cristoforo non può cantare e portare la croce è stato il migliore in campo ma l'errore grossolano di abbassarsi è un vizio che ha e condiziona la squadra piacevole la partita in difesa di pastore nonostante i tre gol presi ma questo è un giocatore che ha puntellato bene la difesa dopo lo shock dell'infortunio di della monica l'agropoli vince su un campo tabù e si rilancia in classifica domenica arriva l'angria il guariglia partita molto importante determinante vincere con i grigiorossi vuol dire mettere una serie ipoteca sulla vittoria del campionato